buongiorno a tutti arriva il momento di installare il box doccia ho preso un box doccia angolare in cristallo 8 mm con il trattamento anti goccia e prezzo di acquisto su amazon circa 260 euro per una dimensione da 70 per cento lascio il link del prodotto qui sotto in descrizione ci sono anche altre dimensioni ovviamente vi arriveranno anche le istruzioni di montaggio è un box irreversibile quindi può essere montato con il lato fisso a destra o a sinistra secondo le vostre esigenze necessaria la presenza di due persone ovvero secondo me si può montare anche da soli però se ci abbiamo l'aiuto di una di un'altra persona è meglio il montaggio abbastanza semplice e intuitivo si montano prima le pareti fisse poi si uniscono attraverso questa barra in alto che vedete dopo di che si aggancia alla porta scorrevole ci sono tutte le guarnizioni necessarie per evitare infiltrazioni d'acqua e poi comunque alla fine si mette comunque un filo di silicone apposito per doccia tutto intorno al ai profili a me questo box è piaciuto molto da un tono molto elegante al bagno diciamo il fatto che sia tutto trasparente con i profili ridotti al minimo da comunque una visuale maggiore al bagno e quindi elimina gli ingombri visivi finalmente è arrivato il momento di provare la tenuta di questo box che non è arrivato a doccia a 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